Buongiorno, sono Massimo Martina, chef del ristorante Il Fiorile di Borghetto di Borbera in provincia di Alessandria. Oggi prepariamo un flan di zucca al grana padano su cialda dello stesso formaggio. Gli ingredienti per 4-6 persone sono grana padano oltre 16 mesi grattugiato 100 g, 500 g polpa di zucca, 4 uova, 1 cucchiaio di panna da cucina, burro, 1 spicchio d'aglio, origano fresco, noce moscata, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, prezzemolo, funghi champignon a fette. Per prima cosa prepariamo la nostra zucca. Dobbiamo pulirla per bene, togliere la buccia cercando di fare un taglio piuttosto sottile e metteremo poi la nostra zucca a cuocere in forno per almeno 20 minuti a circa 180 gradi. Una volta mondata la zucca la mettiamo in una teglia antiaderente, anzi magari aggiungiamo un pratico foglio di carta da forno. Prendiamo qualche rametto di origano fresco e lo mettiamo insieme alla zucca giusto per dare un pochettino di profumo. Qualche granello di sale, così. Qualche goccia di olio extravergine d'oliva, così. E siamo pronti ad infornare la nostra zucca. Inforniamo a 180 gradi, 20 minuti circa. Ricordatevi, dopo 10 minuti giriamo la zucca dall'altro lato in modo che cuocia in maniera uniforme. Benissimo, mentre la nostra zucca cuoce in forno noi cominciamo a preparare la guarnizione del nostro piatto. Facciamo trifolare due funghi, è una cosa molto semplice che ognuno di voi sicuramente avrà già fatto nella propria cucina. Quindi puliamo uno spicchio d'aglio. Allo stesso modo, come abbiamo fatto con l'aglio, facciamo anche con qualche fogliolina di prezzemolo. Bene preparato il nostro trito, non abbiamo nient'altro da fare che prendere un filo d'olio, metterlo nella nostra padella, mettere un fuoco piuttosto vivace, andiamo a mettere, ad aggiungere il nostro trito di prezzemolo e poco aglio e non appena comincerà a soffriggere aggiungiamo i nostri champignon già affettati. Il nostro soffritto sta sfrigolando, non ci rimane altro che aggiungere gli champignon preaffettati. Aggiungiamo mezzo cucchiaio di panna da cucina. Adesso lasciamo cuocere i nostri funghi per 7-8 minuti abbassando la fiamma. La nostra zucca nel frattempo ha cotto, la tiriamo fuori dal forno e siamo pronti a preparare l'impasto per il nostro flan di zucca al grana padano. Tiriamo fuori la nostra zucca che è perfettamente cotta, aspettiamo 10 minuti, la facciamo raffreddare, prima di mettere gli ingredienti nel mixer per preparare il nostro flan. Benissimo, procediamo a preparare l'impasto del nostro flan. La nostra zucca è pronta ed è raffreddata, dobbiamo preparare il grana padano, ne grattugiamo circa 100 grammi che sarà la quantità sufficiente a preparare la nostra ricetta. Abbiamo utilizzato questo grana padano oltre 16 mesi perché ha, diciamo, le caratteristiche organolettiche che conferiranno la giusta sapidità al nostro piatto e anche consentiranno di avere quella percentuale di umidità sufficiente a garantire una crescita di questo flan di zucca, perfetta e una compattezza omogenea. Prendiamo la polpa di zucca, la sminuzziamo e la mettiamo all'interno del frullatore. Dopo la zucca rompiamo 4 uova, una generosa grattata di noce moscata, un pochettino di sale, un po' di pepe e ultimo ma non ultimo il nostro grana padano. pronti a preparare l'impasto aggiungiamo anche una goccia di panna da cucina Bene, l'impasto è pronto, dobbiamo adesso preparare gli stampini da infornare per una cottura a bagnomaria, quindi una cottura indiretta. Ok, prepariamo gli stampini in modo che possano essere infornati. Prendiamo l'impasto, lo mettiamo in una ciotola, in ogni stampo andiamo a mettere un pochettino di carta da forno in modo da foderare perfettamente lo stampo e che sia più facile poi estrarre il nostro flan una volta cotto. Poniamo gli stampi nella teglia. Vi ricordo la cottura a bagnomaria, in forno per mezz'ora. Prepariamo adesso la cialda di grana padano. Procediamo prendendo un pochettino di burro, prendiamo il grana padano. Bene, la cialdina è pronta, non ci rimane che metterla su di un piatto. Prepariamo il piatto, la cialda di grana padano la ruotiamo dalla parte opposta, la mettiamo sul piatto così. Prendiamo il flan di zucca a grana padano, prendiamo i funghi. Il flan di zucca e grana padano è pronto. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!